Per il Marocco un re all'europea, anche se in Europa i re non sono più molto di moda. Re a San Secondo visita per la prima volta il suo paese in veste e auto da sovrano. Lungo le strade di Marrakesh la folla fa ala al suo passaggio e lo acclama. Un bacio in fronte ad una delle poche suddite non velate, qualche stretta di mano, i soliti balletti e l'immancabile incantatore di serpenti giunto forse da Napoli. Poi invece dei tradizionali pochi d'artificio qualche fucilata e i soli ad avere paura di questi botti sono i coraggiosissimi cavalli arabi.